Buonasera a tutti, in questo 28 di ottobre di 2021 il mio canale YouTube ha raggiunto quota 300 iscritti ed è una cosa meravigliosa, ne sono estremamente felice, sì molto felice, il mio ego è molto felice ma io non l'ego, lascio libero il mio ego, sì lasciamo il nostro ego libero se c'è qualcosa nella nostra vita, nel nostro essere umani è perché avrà la sua ragione questo mi sembra che sia un dato certo e sicuro 300 iscritti dal 8 dicembre 2020, un bellissimo traguardo, una vittoria, un'altra vittoria anche oggi perché ogni giorno puoi vedere delle vittorie nella tua vita, puoi vedere dei drammi o puoi vedere la vittoria a te di scegliere perché puoi focalizzarti su una cosa oppure sull'altra io in questo ultimo anno ho imparato a focalizzarmi sul positivo, su quello che mi è riuscito bene in una giornata in una settimana, in un mese e quello che conta è proprio quello, è saper vedere il bello ovunque, in ogni momento, in ogni giorno e come fai? semplicemente ti focalizzi su quello che ti ha creato una forte emozione su quello che a te piace elementare Watson mi piace questo elementare Watson perché è tutto basico, è tutto semplice è tutto questione di una grande fede la fede la fede primeggia sulla forza sul potere della mente la fede è qualcosa che si costruisce insieme a te giorno dopo giorno vittoria dopo vittoria una fede sempre più grande una fede che si nutre di sincronie di sincronie che portano un messaggio di casi che non sono più casi di situazioni che sono il frutto di quello che abbiamo fatto poco prima o qualche giorno prima o gli anni passati una sincronia racchiude in sé una grande conoscenza una grande crescita personale tua una grande centratura ogni giorno sempre di più che nasce da quell'intenzione quella intenzione che può essere di essere più centrato di osservare di più i messaggi che la vita ci dà tramite queste che chiamiamo sincronie i messaggi che sono ovunque e a noi di scoprirli osservando ciò che ci accade e collegando un punto con l'altro qualcuno diceva che il caso è come vedere un'isola da prima ti sembra che tutte le isole che sono lì vicino sono separate ma se tu ci togli l'acqua quell'acqua ti rendi conto che sono tutte collegate e così è per le sincronie che nascondono grandi messaggi noi siamo qui per scoprire quello che non conosciamo allora la strada è proprio quella alla scoperta dello sconosciuto un un abbraccio di grande vittoria per ognuno di noi per salire sempre più in alto per per amore per la vita metti like al video condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale se ti sembra una cosa buona e giusta per te io ti saluto e ti auguro una meravigliosa serata ciao 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 ciao